Voglio la liana Non ho preso la liana Come l'afferro sta cazzo di liana? Non so che è un paragone per nulla azzeccato ma Cioè ha i movimenti più fluidi di eFootball Hola splendori e bentornati ad un nuovo appuntamento con il TBT La rubrica in cui andiamo a rivivere i giochi che hanno fatto parte della nostra infanzia Come avrete ormai capito oggi proveremo il videogioco dell'Era Glaciale 2 Il risgelo per Playstation 2 Sono riuscito a procurarmi soltanto questo qui Quello del primo film era introvabile Prima di cominciare vi ricordo che tutti i giorni tranne la domenica Mi potete trovare in live sul mio canale Twitch Link all'interno della descrizione e nel commento pinnato in alto E ora avviamo la nostra magica PS2 Ah yes Il magico mondo dell'Era Glaciale Ah no scusate la solt... Wups Mi ero dimenticato di Sierra E il gioco comincia nel miglior modo possibile Con Scrat che perde la ghianda nel menu iniziale Tra l'altro pura ripetizione mi sa No Ce l'ha L'ha trovata Bravo Scrat Oh che caro... That's the cutest fucking thing I've ever seen Ma quanta cura nei menu iniziali Che cosa bella Sentite non prendiamo tempo e cominciamo subito a giocare Bella questa cinematica a 18 fps tra i ghiacci Ok comincio a pensare che il vero protagonista di questo gioco sarà Scrat E... Ah No povero Scrat Cionchi Scrat Però posso dire che sono fatti benissimo i modelli Sono fottutamente meravigliosi Comunque fa strano non sentire si doppiato da Claudio Bisio Ah e quindi noi giochiamo davvero nei panni di Scrat Ok salve In ogni caso Sid ci ha detto di andare a leggere il cartello Vediamo cosa c'è scritto Come non detto è soltanto un cartello che mi dice di leggere gli altri cartelli Comunque mi sembra di capire che questo sarà l'ennesimo gioco in cui bisogna andare in giro e raccogliere cose Vero? Che cazzo è sta roba qua? È un'ippo pofoca Oh comunque Scrat si fa tanti problemi per una cacchio di ghianda Quando qua stiamo girando tranquillamente per il mondo a raccogliere un sacco di ghiande Il gioco non dovrebbe tipo finire qui? Ah ma lui vuole questa Cosa succederà? Ecco appunto Ha appena bestemmiato l'ho sentito Orca troia che bestemmione Non mi ricordavo che Scrat tirasse i porconi nell'era glaciale Ma forse ero troppo piccolo per capirlo Ma questo non è Manny Questa qua è la compagna Come cazzo si chiama? Gianpaola Sarebbe stato un film totalmente migliore l'era glaciale 2 se si fosse chiamata Gianpaola Per passare attraverso una nut door Proprio lei la nut door Ho 26 anni devo smetterla di ridere per queste stranzate Ehm... cosa? Oh... Stretta la nut door Infiliamoci con cautela Senza indugio nel pertugio Oh no Pumba Che ti è successo? Non mi ammazzare sono Prehistoric Timon Ma quindi tipo devo menarli? Chiappali! Mena gli Scrat! Bravissimo! Oh no Pino in segno Non mi minacciare però Non mi fare l'occhiolino tu Ah cazzo Due minuti per raccogliere tutto quanto senza toccare i cespugli Ora ho capito Vabbè quello era inevitabile Ci dovevo uscire dal cespuglio Pensavo di dovermi mettere al loro interno per nascondermi Come non detto Ma come cazzo funziona? Forse non ho visto bene le cose Forse mi devo fermare immobile Con le X mi fingo morto Ah vaffanculo Manny me l'avevo detto che li avrei dovuto leggere tutti quanti con attenzione Odio le emissioni di stealth Sono strapallose Oh Sette secondi Girati Ce l'ho fatta Oh mio Dio all'ultimo secondo Che tensione cazzo Non provavo tutta questa tensione da Forse no Hc nel 2017 Ho recuperato tutta quanta la strada che mi ero perso Benissimo Ora andiamo tutti quanti a prendere l'ulto Che animale sei tu? Ho sbloccato la nut door E vai Posso parlarti? È tipo un gigabradipo What the fuck? Si vede che non me lo ricordo Nella glaciale 2 vero? Tutti nella nut door Siamo di nuovo all'aperto Salve Chi è che mi manca? Seed È l'unico personaggio che ancora non ho incontrato No Bastardo Stavo scavando io A parte che se c'è il tuo amico che ti blocca Fra No e ovviamente riesce a fare il giro in quel momento lì no? In quel momento esatto Bastardo R1 È cerchio per mirare e tirare da lontano Vero? Per sniperare cose essenzialmente C'è un rinoceronte Sembra amichevole Non è amichevole sto zitto Pro Che botta Trovo i pipistrelli con Scratch nut Vabbè lasciamo perdere Prima che il tempo scada Come funziona? È quello al centro E ora volando È quello più in basso È quello tutto a sinistra È quello tutto a sinistra Ah ma il gioco È quello quello delle carte È quello con cui provano a scammarti sempre Nei film Perché di persona non l'ho mai visto fare a nessuno Comunque Ma è di nuovo a sinistra lo scemo Ora parte da quello a sinistra Muo al centro Muo a destra Ed è tutto a destra Lui Difficilissimo Grazie pipistrelli Ma se colpissi il pangolino? Oh no Si è incazzato Oh no Poverino Si arrabbia Scat ma è un po' da bastardi Quello che abbiamo appena fatto Lo sai Cioè Hai appena menato un pangolino Giusto per andare ad accogliere qualche ghianda in più Sei un bastardo psicopatico Sei tipo un mortino in Madagascar Ma peggio Ma vai a cagare Ma guarda lì Ma guarda qua Ma vaffanculo Davvero È questo il gliptodonte Non sei amichevole? Non sei amichevole Però ti posso menare Certo immaginarsi un orso polare Che viene menato da uno scogliattolino Fa alquanto ridere Però Va va come lo gestiamo bene Però il ghiaccio Quando dobbiamo menare gli orsi The coconut is a giant nut No basta Lo toglimela da testa Sta cazzo di coconut song Minchia è stata citata in live Una settimana fa E mo non me la toglie più nessuno Dal cervello Mascia triangolo Mascia triangolo Mascia triangolo Mascia orso Mascia triangolo Mascia triangolo Si può giocare a bowling? Sì Premi X per righittare i vieti Di quanti pinguini Ma sono i pinguini di Madagascar Orca troia Che tiraccio Sentite Sono un esperto di bowling Ho giocato per Anni Sono un esperto di bowling Ho giocato per Sul macchio taglia anche questa Tutte le partite a Wii Sports L'hanno servita qualcosa Oh Infatti Visto Questo era un bel tiro C'è un po' di input lag comunque Soprò soltanto nella barra in basso Ma guarda che schifo Mi sento crudele colpire i pinguini Ma che bello sto strike Yes Se faccio bene il prossimo tiro Potrei fare lo sper della vita Oh cazzo No Per poco Ho fatto 75 in totale Meglio di quanto possa fare in real life comunque Ma come loser Quanto devo fare almeno? 100 punti Ok no Devo farcela Perdonatemi Aspetta 100 punti su 10 tiri Vuol dire che devo fare strike ogni volta O lo strike vale di più No vale 10 Ma sei stronza È difficilissimo Ok no Come non detto Sto zitto Perdonatemi In realtà Non serve Fare 10 volte Ogni tiro Sto già a 62 dopo 4 Questo game è andato Bello questo Dai che cadono tutti Dai che cadono tutti Ah no Gli ultimi due dovrebbero rimanere su Per fare gli stronzi Vero Ho ancora 4 tiri Per tirarne giù 20 È fattibile Ho concluso con 109 Quindi per poco Ma ce l'ho fatta a farcela Ho vinto Cosa mi dai di bello Come premio? Mi sono allenato molto Oh yes La mia noce Che bello Seed Finalmente ci incontriamo Eh Che succede qua? Oh sì Fai 7000 punti Per fare colpo Sulle ragazze Ah Eh vabbè Aia Cosa vuoi che sia Sono il più fico Va che bello Mio dio adoro Se stronzate Non chiedemi per quale motivo Abbiamo fatto questo collegamento Ma mi ricorda Il videogioco Delle olimpiadi Di Nagano Del 98 Per Nintendo 64 Ce l'avevo a casa E ci ho giocato tantissimo Nella mia vita Aia Aia Devo fare almeno 7000 punti Stai scherzando? È tostissimo Questo livello Oh Fai numeri Cazzo Che perfetto Che perfezione Seed Pure con i trick A mezz'aria Vanessa Ferrari Chi Orca Puttana Seed Vite parallele Ok ho fatto 200 Mi mancano 1000 punti E poi devo arrivare in fondo Senza colpire nient'altro Oh Che c'è Che c'è Che c'è Che c'è Che c'è Eccolo lì Eccolo lì La mia fine Ok 7060 Forse questo è l'ultimo salto Mamma mia Quanto sei aggraziato Seed È il traguardo questo? È il traguardo Ok Bravo Seed Sei il più fico E si è effettivamente Scongelato tutto Stravi che l'hanno tirato fuori dal frigo Prima di Orso Ma frate Ma non mi tirare gli schiaffi Ti ho salutato Voglio la liana Non ho preso la liana Come la ferro sta cazzo di liana? Lo so che è un paragone per nulla azzeccato Ma c'è Ha i movimenti più fluidi di e-football Ti è marmottazza Beccati ste botte Comunque a vederlo così Sembra che abbiano Io incato una mappa di Spyro E l'abbiano importata su sto gioco Scimia Schiaffeggio le chiappe Figa È così che è nato il kink Degli sculacciamenti degli esseri umani? Eh no perché già esistevano Durante l'era glaciale Ok sto zitto Però sarebbe stato un bel pezzo Di lore dell'umanità Quello Monkey No dannata blu scimmia Vieni qua stupida blu scimmia Forest monkey challenge Dimostra chi è il boss Prima che finisca il tempo E forse daranno indietro la tua nut Colpito Dai Nessuno può niente Contro la mia fantastica precisione Devo colpirne 25 Mamma mia Power key Scusatemi Non manco neanche un colpo Senza la mia assistita Per giunta Se ci fosse il competitivo Del videogioco dell'era glaciale Avrei già vinto tutto 25 Stronze Thank you Beh almeno sono sportive Dai Terza nut ottenuta Ma dove si va? Scusa Scrat Non volevo Mi ha fatto ridere Lo rifarei volentieri Però non volevo La prima volta Oh cazzo Mocio tutte quante le liane No Ecco son morto E' stato bello Oh posso dirlo Non ironicamente Gran gioco questo Cazzo se mi è piaciuto Cioè l'ha fatto proprio bene Era proprio bello In confronto a tutti quanti I giochi della stessa epoca Questo qua sta Spanne sopra Ma svariate Cazzo se mi è piaciuto